Tutti voi, così come vanno i miei ringraziamenti a Vincent Manguerra, ad Angelo Country Music, a Salvatore Oliva, ad Alessandro Rito e ad altri che ci hanno inviato messaggi per dire ci mancherete, mi sembro un po' troppo, eh sì però i messaggi sono arrivati oggi. Oh, invece, Picchio, ti chiamo Picchio per la prima volta, guarda, ti chiamo Picchio per la prima volta perché ti devo far vedere una cosa. Allora, posso far vedere questa foto? Eccola, la camera è quella. Ecco qua. Allora, la camera era quella, questa non è importante. Ecco qua, chi è questo signore? Questo signore era un mio carissimo amico, grandissimo amico Anzio Mancini. Anzio Mancini che aveva delle ottime virtù per sfondare, io feci di tutto, all'epoca qualcosa contavo alla Fiorentina per farlo venire alla Fiorentina. Venne alla Fiorentina, era impegnato nel gruppo riserve alternative e poi morì prematuramente su un campo di calcio durante una partita in Sardegna. E questo signore invece qui, cavaliero ufficiale di esiste testimone? Ah, questo è il fratello Umberto, qui ci sono occhiati, questo è il fratello Umberto, l'altro fratello Carlo, Umberto Mancini, Giacomo Losi, ti vedo, Ciccio Esposito. Mi piace, voglio far vedere a tutti quanti, cavaliero ufficiale, cavaliero ufficiale, vai con la telecamera, cavaliero ufficiale, desisti, com'è che è cavaliero ufficiale, desisti? Cavaliero ufficiale oggi è commendatore per via delle onorificenze che ho avuto grazie al calcio e questo deve essere qualche cosa che ha originato Angelo Liberati da Chicago, un amico fraterno, oltre che mio, anche di Umberto Mancini è poveroso. Abbiamo qualcuno in linea? Non abbiamo nessuno in linea, va bene, lo avremo strada facendo, va bene, questo era un attimo di ricordi, c'è qualcuno in linea? Pronto? Non c'è. Pronto, sì sì, ci siamo. Pronto? Pronto? E allora si presenti lei per salutare il picchio. Ciao picchio! Ciao Angelo, è questa la carambata di questa? Manca la carambata, abbiamo di meglio della carambata. No, abbiamo di meglio, un spettacolo da Francesca, per carità. Allora, noi la salutiamo, ha visto che abbiamo messo in contatto con desisti che l'ha riconosciuto, lei non ci credeva. Eh, meno male. Ha visto, ha subito saputo trovare il luogo, la foto e il ricordo della persona. Ma perché il collegamento è facile con la famiglia Mancini con Angelo, per questo ho capito che questa era un'iniziativa sua. Da dove ci chiama? Da dove ci vede Angelo? Allora, io chiamo da Chicago, sono stato ospite un paio di mesi fa alla giostra dei gol. Eh, a te. Saluto anche l'amico e il dottor Cucci. Ciao Angelo. Ciao. Ciao. Va bene, noi la ringraziamo per aver partecipato a questo giochetto con il nostro desisti, grazie e ci continui a vedere. Un abbraccio a Giancarlo, ciao picchio, ciao. Ciao. Allora, entriamo in ambiente calcio. Adesso ci siamo tonti questa prima parte, ogni tanto, ogni tanto ci dovremmo. No, 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 no. Allora, io voglio entrare nel calcio e facendo mi aiutare dai giornali, oggi purtroppo ci manca Tutto Sport, non sono riuscito a trovarlo, però insomma il saluto va naturalmente ai colleghi di Tutto Sport e volevo ringraziare, visto che siamo in tema, anche la Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport che stanno...